da buco prova a rimettere il pallone dentro per Rolando Bianchi l'assist nella caduta di Goran Pandev in area di rigore, calcio di rigore calcio di rigore per la Lazio fallo su Pandev, spinta netta di Aronica su Goran Pandev e calcio di rigore tutto pronto, parte Bianchi rete, Bianchi ha portato in vantaggio la Lazio una liberazione da un incubo